Nel contesto della Fiera di Rimini e contestualmente a San 2014, punto di riferimento per l'arredamento e l'accessorio in outdoor, prende vita la settima edizione di Tende e Tecnica, un salone dedicato al prodotto e alle soluzioni per la protezione solare, binomio perfetto per gli operatori del settore che possono scoprire in un'unica occasione tutte le novità e i suggerimenti tecnologici all'avanguardia per l'esterno in ambito privato e pubblico. Tende e Tecnica, seconda fiera mondiale del comparto protezione solare, è un appuntamento biennale fortemente voluto proprio per confermarsi come unico evento nel mercato di riferimento sia a livello nazionale che europeo. Forte la presenza di buyer provenienti da mercati emergenti come l'est Europa e il Mediterraneo. Inoltre, la novità rappresentata quest'anno è una piattaforma web che agevola i contatti tra i compratori e gli espositori in modo da concordare al meglio preventivamente gli incontri one to one da sviluppare durante tutto il periodo della fiera. Tende e Tecnica è sicuramente un comparto italiano produttivo che eccelle nel mondo grazie alle soluzioni sempre all'avanguardia tecnologiche di design. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!